Niente da fare, la regione è drastica nella sua scelta di tagliare i costi inutili, infatti l'assessore Petraroia, incontrando una delegazione degli studenti universitari di Isernia, ha confermato la volontà di limitare al prossimo febbraio 2014 l'erogazione del contributo regionale necessario a pagare il fitto alla Curia per i locali dell'ex convitto Vescovile. Febbraio quindi data dello stop, dopo Isernia, se vuol continuare ad ospitare lettere e scienze politiche al centro della città, dovrà offrire locali a costo zero e ce ne sarebbero di proprietà sia della regione, come Palazzo Iadopi, sia del comune, come la sede del Fascitelli. Entrambi gli stabili sono in fase di recupero strutturale e funzionale, un'idea quella del Fascitelli lanciata dal presidente Bazzuto. Già il fatto stesso che il fitto non si pagherebbe più con quella struttura, perché comunque è una struttura di proprietà, di proprietà pubblica del comune, quindi credo che ci sono già delle garanzie in questo senso. Io ho voluto aprire un dibattito su quella sede, visto che la stiamo rimettendo a posto, ma soprattutto la mia proposta, la mia riflessione è scaturita dalla nuova constatazione. Quest'anno il ginnasio ha registrato la composizione di una sola classe, quindi non c'è più un'attenzione verso quella scuola che possa giustificare anche un istituto completo per pochissime classi, insomma, quindi anche la spesa che dovremmo affrontare è di gran lunga superiore alle necessità e alle ricadute. È una proposta, voglio dire, una delle tante, ne possono venire tante, ci confrontiamo, perché no? Avviene al centro della città, è un palazzo, voglio dire, tra l'altro storico, sicuramente accogliente, sicuramente anche posizionato in una zona centrale della città, darebbe vitalità non solo al centro storico, ma darebbe vitalità praticamente dalla stazione in giù a tutta Isernia e poi offre delle garanzie della sede a Isernia e dell'Università di Scienze Politiche e Lettere, questo mi pare l'obiettivo importante.